E' nato, in questo film è nato prima la storia, il contesto, diciamo l'idea di raccontare la fine di un mondo, la fine di un mondo feudale, la fine della mezzatria e raccontare il passaggio da un medioevo sociale storico a un medioevo post-apocalittico e umano. La storia, il contesto, all'improvviso è stata illuminata dall'arrivo di Lazzaro, il buono, che poi ha preso più importanza della storia. Abbiamo sempre ripetere le stesse cose, e abbiamo l'impressione di non apprendere. E' vero come dice Alice, l'innocenza ha la capacità di non morire come Lazzaro, di riuscita e credo che è sempre possibile.